Frank Frank non era un esperto di spiriti, ma i legionari non morti dovevano essere tutti semi-dei, visto che soffrivano alla grande di disturbi dell'attenzione e iperattività. Dopo essere usciti a fatica dal baratro, cominciarono a vagare senza meta, dandosi botte sul petto a vicenda senza nessuna ragione apparente, spingendosi l'un l'altro di nuovo nella voragine, scagliando frecce per aria come se tentassero di ammazzare le mosche. Di tanto in tanto lanciavano un giavellotto, una spada o un alleato in direzione del nemico. Nel frattempo, l'esercito di mostri si faceva più fitto e più arrabbiato. I figli della Terra scagliavano raffiche di pietre contro i legionari zombie, schiacciandoli come fossero di carta. Demoni femminili con gambe spaiate e capelli fiammanti, Frank immaginò che fossero impuse, igrignavano le zanne e gridavano ordini agli altri mostri. Una decina di ciclopi avanzò sui ponti pericolanti, mentre umanoidi simili a foche, i telchini, come quelli che Frank aveva visto ad Atlanta, lanciavano fiale di fuoco greco dall'altra parte del baratro. C'erano anche alcuni centauri selvaggi nella mischia, che scagliavano frecce di fuoco e calpestavano sotto gli zoccoli gli alleati più piccoli. In realtà, quasi tutti i nemici sembravano muniti di una qualche arma da fuoco. Nonostante la nuova sacca innifuga, a Frank non piaceva per niente quella situazione. Avanzò a fatica in mezzo alla folla di legionari dirigendosi lentamente verso gli amici, abbattendo i mostri finché non esaurì le frecce. Con un leggero ritardo, capì che avrebbe dovuto trasformarsi in qualcosa di grosso e potente, tipo un orso o un drago. Non appena gli venne in mente, sentì un dolore su un braccio. Inciampò, abbassò lo sguardo e rimase allibito nel veder spuntare un dardo dal bicipite sinistro. La manica era impregnata di sangue. Quella vista gli diede le vertigini e soprattutto lo fece arrabbiare. Tentò di trasformarsi in un drago, ma senza successo. Il dolore gli rendeva troppo difficile concentrarsi. Forse non poteva cambiare forma quando era ferito. «Fantastico!» si disse «E lo scopro adesso!» Lasciò cadere l'arco e raccolse la spada di una creatura a terra. Beh, in effetti non sapeva cosa fosse di preciso. Una sorta di guerriera rettile con tronchi di serpente al posto delle gambe. Avanzò menando colpi e tentando di ignorare il dolore e il sangue che gli colava lungo il braccio. Circa cinque metri più avanti, Nico brandiva con una mano la spada di ferro dell'ostige, mentre sollevava lo scettro di Diocleziano con l'altra. Continuava a gridare ordini ai legionari, ma loro non gli prestavano la minima attenzione. «Certo che no!» pensò Frank. «Lui è greco!» Jason e Piper si trovavano alle spalle di Nico. Jason evocava raffiche di vento per deviare giavellotti e frecce. Gli rottò una fiala di fuoco greco proprio sopra la gola di un grifone, che scoppiò in fiamme e precipitò a spirale nel baratro. Con una mano Piper combatteva con la nuova spada, mentre con l'altra sparava cibo dalla cornucopia, utilizzando prosciutti, polli, mele e arance come missili intercettori. L'aria sopra l'abisso si trasformò in uno spettacolo pirotecnico di proiettili fiammeggianti, rocce esplosive e le cornie alimentari. Ma gli amici di Frank non potevano reggere all'infinito. Jason aveva già il viso imperlato di sudore. Continuava a gridare in latino, «Formati i ranghi!» Ma i legionari non morti non davano ascolto neppure a lui. Alcuni zombie furono di aiuto solo perché stavano nel mezzo, bloccando i mostri e prendendo fuoco. Ma se avessero continuato a essere falcidiati in quel modo, non ne sarebbero rimasti abbastanza. «Fate largo!» gridò Frank. Con sua grande sorpresa, i legionari non morti si spostarono per farlo passare. I più vicini si voltarono e lo fissarono con occhi vacui, come se fossero in attesa di altri ordini. «Oh, fantastico!» mormorò. A Venezia, Marte lo aveva avvertito che stava per arrivare la sua vera prova come leader. Lo spettro dell'antenato lo aveva spronato a prendere il comando. Ma se i legionari non morti non davano ascolto a Jason, perché mai avrebbero dovuto stare a sentire lui? Perché era un figlio di Marte? O forse perché... La verità lo colpì come una rivelazione. Jason non era più romano al cento per cento. Il tempo trascorso al campo mezzosangue lo aveva cambiato. Reina se n'era accorta. A quanto pareva, lo avevano percepito anche i legionari non morti. Se Jason non emanava più il tipo giusto di vibrazione, nell'aura di un leader romano? Frank riuscì a raggiungere gli amici, mentre un'ondata di ciclopi si scagliava contro di loro. Sollevò la spada per schivare la mazza di un ciclope, poi lo colpì al fianco, scaraventandolo nel baratro. Un altro mostro andò alla carica. Frank riuscì a trafiggerlo, ma la perdita di sangue lo stava indebolendo. Gli si offuscò la vista. Le orecchie cominciarono a ronzargli. Era vagamente consapevole di avere Jason sul lato sinistro, che deviava con il vento i dardi in arrivo, e Piper a destra, che gridava ordini nella lingua maliatrice. incoraggiando i mostri ad attaccarsi l'un l'altro o a fare un salto rinfrescante nell'abisso. «Vi divertirete!» prometteva. Qualcuno le dava retta, ma dall'altra parte del baratro le impuse neutralizzavano i suoi ordini. A quanto pareva, anche loro usavano una forma di lingua maliatrice. I mostri erano così numerosi intorno a Frank da rendergli difficoltoso l'utilizzo della spada. L'alito fetido e la puzza di sudore che emanavano erano quasi sufficienti a mandarlo al tappeto, anche senza l'aiuto della freccia che gli pulsava nel braccio. «Cosa doveva fare?» Aveva messo a punto un piano, ma cominciava a sentirsi confuso. «Stupidi spiriti!» gridò Nico. «Non ci danno retta!» concordò Jason. «Basta! Devo costringerli a obbedire!» si disse Frank. «Raccolse tutte le sue forze e urlò «Coorti!» «Serrate gli scudi!» Gli zombie si mossero. Si allinearono davanti al figlio di Marte, udendo gli scudi in una formazione difensiva, anche se un po' sfilacciata. Ma si muovevano troppo lentamente, come sonnambuli, e non tutti avevano obbedito a quell'ordine. «Come hai fatto?» chiese Jason. Frank aveva un dolore alla testa tremendo. «S'impose di non svenire?» «Sono io l'ufficiale romano di grado più elevato!» «Non... non ti riconoscono più come tale!» «Mi dispiace!» Jason non sembrava esserne particolarmente sorpreso. «Come possiamo aiutarti?» Frank avrebbe voluto avere una risposta. Un grifone si librò in alto e per poco non lo decapitò con gli artigli. Nico lo colpì con lo scettro di Diocleziano. Il mostro andò a sbattere contro un muro. «Orbe informate!» gridò il figlio di Marte. Quasi due decine di zombie obbedirono, sforzandosi di formare un anello difensivo intorno a Frank e ai suoi compagni. Bastava per dare un po' di tregua ai semitei, ma c'erano ancora troppi nemici che avanzavano. Molti dei legionari fantasma continuavano a vagare imbambolati. D'un tratto, Frank capì. «È per via del mio grado!» «Come dici?» gridò Piper pugnalando un centauro. «Sono soltanto un centurione!» Jason imprecò in latino. «Vuol dire che non può controllare un'intera legione! Non ha un grado abbastanza alto!» Nico brandì la spada nera contro l'ennesimo grifone. «Beh, allora promuovilo!» Frank aveva la mente confusa. Non capì il senso delle parole di Nico. «Promuoverlo? Come?» Con la sua migliore voce da sergente istruttore, Jason gridò «Frank Jung! Io, Jason Grace, pretore della dodicesima legione fulminata, ti do il mio ultimo ordine! Rassegno le mie dimissioni e ti promuovo d'emergenza sul campo nominandoti pretore con i pieni poteri derivanti da questo grado! Prendi il comando di questa legione!» Frank ebbe la sensazione che da qualche parte nella casa di Ade si fosse aperta una porta. Fu come se una raffica di aria fresca inondasse le gallerie. All'improvviso non sentì più la freccia conficcata nel braccio. I pensieri gli si schiarirono. La vista si acuì. Nella mente, le voci di Marte e Ares gli parlarono all'unisono in tono deciso. «Distruggili!» Frank riconobbe a malapena la propria stessa voce quando gridò «Legione! Agmen formate!» Immediatamente tutti i legionari presenti nella grotta sguainarono le spade e sollevarono gli scudi. Si precipitarono ai suoi ordini, spingendo e colpendo i mostri che intralciavano loro il cammino finché non si ritrovarono spalla contro spalla con i compagni, schierati in una formazione compatta. Pioccavano pietre, giavellotti e fuoco, ma ormai Frank aveva una linea difensiva disciplinata che li riparava dietro un muro di bronzo e cuoio. «Arceri!» gridò. «Plamas!» Non aveva grandi speranze che l'ordine funzionasse. Gli archi degli zombie non potevano essere in buone condizioni. Ma con sua grande sorpresa, diverse decine di spettri scoccarono le frecce. Le punte presero fuoco da sole e un'ondata fiammeggiante di morte passò sopra la linea della legione, abbattendosi contro il nemico. I ciclopi caddero, i centauri rovinarono a terra. Un telchino strillò e si mise a correre in tondo con una freccia infuocata conficcata sulla fronte. Frank udì una risata alle spalle, lanciò un'occhiata indietro, ma non riuscì a credere a quello che vide. Nico di Angelo stava davvero sorridendo. «Così si fa!» esclamò. «Invertiamo questa marea!» «Cune un formate!» urlò Frank. «Avanti con i pila!» La linea di zombie si infittì al centro, formando un cuneo per sfondare l'esercito nemico. Abbassarono le lance, creando una fila irta di punte, e avanzarono. I figli della terra gemettero e lanciarono massi. I ciclopi assestarono pugni ammazzate contro gli scudi serrati, ma i legionari zombie non erano più bersagli di carta. Avevano una forza disumana e quasi non vacillarono sotto gli attacchi più feroci. Ben presto, il pavimento fu ricoperto di polvere di mostro. I soldati armati di pila attaccarono il nemico come una dentiera di zanne giganti, annientando orchi, donne serpente e segugi infernali. Gli arcieri abbatterono i grifoni e provocarono il caos nel corpo principale dell'esercito di mostri, dall'altra parte del baratro. Le forze di Frank cominciarono ad assumere il controllo sul loro lato della grotta. Uno dei ponti di pietra crollò, ma altri mostri continuavano ad arrivare passando dall'altro. «Jason, puoi far volare qualche legionario dall'altra parte del baratro?» gridò Frank. «Il fianco sinistro del nemico è debole! Attaccalo!» Jason sorrise. «Con piacere!» Tre legionari si sollevarono in aria e atterrarono dall'altra parte del baratro, subito seguiti da altri tre. Infine anche Jason li raggiunse e quel drappello cominciò a penetrare fra i telchini, spargendo il terrore nelle schiere nemiche. «Niko, tenta di evocare ancora altri morti!» disse Frank. «Ce ne servono di più!» «Lascia fare a me!» Il figlio di Ade alzò lo scettro di Diocleziano, che mise una luce ancora più cupa. Altri legionari spettrali fuori uscirono dalle pareti per unirsi alla battaglia. Dall'altra parte del baratro, le impuse gridavano ordini in una lingua che Frank non conosceva, ma il cui succo era ovvio. Cercavano di sostenere gli alleati per indurli ad attaccare attraverso il ponte. «Piper, neutralizza le impuse!» gridò Frank. «Ci serve un po' di caos!» «Credevo che non me l'avresti mai chiesto!» La figlia di Afrodite usò la lingua ammaliatrice sulle impuse. «Ehi, ti si è sbavato il trucco! La tua amica ha detto che sei brutta! Quella ti ha fatto una smorfia dietro le spalle!» Ben presto, le vampire furono troppo impegnate a combattere l'una contro l'altra per ricordarsi di dare ordini. Intanto i legionari avanzavano. Dovevano prendere il ponte prima che Jason venisse sopraffatto. «È il momento di andare in prima linea!» decise Frank. Sollevò la spada e ordinò l'attacco.